Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Oggi sono qui nuovamente su Ghost visto che ho notato che avete apprezzato a sufficienza la precedente puntata E quindi oggi farò Ghost, non so se domenica riuscirò a fare un video ragazzi perché non ve l'ho detto Però sto lavorando questo fine settimana e i miei orari solitamente finiscono verso le 3, 4, 5 del mattino Ovviamente mi sveglio tardi, non riesco a registrare, è un po' un casino ogni volta infatti gestire il video della domenica Magari cercherò di prepararmelo prima, vedrò un attimo Se no cercherò di fare lo sforzo di svegliarmi presto e registrare qualcosa di divertente Poi un'altra cosa che vi volevo avvertire era che avrei fatto un fotomontaggio Non un fotomontaggio scusatemi Un montaggio video di tipo le clip dove sclero male su Ghost Magari lo faccio anche sul momento per renderlo più figo Vedrò, tipo quelli di Dread ragazzi Non so se ce l'avete presenti, quelli di 2 minuti, massimo 3 Questi sono veramente divertenti L'avevo già fatto l'anno scorso di 7 minuti e passa, o anche di più forse E ho visto che vi è piaciuto abbastanza E niente ragazzi, partiamo subito, vediamo cosa troviamo online di mattina presto Beh, partiamo subito lavorando in miniera Quindi andiamo con il nostro classico Vector Ok, se ho giocato un nemico invece non c'era nessuno Quindi magari c'è uno stronzo qui sopra Tranquillo, tranquillo Relax E' uno qui Eh, uh, no! 2-1 ragazzi, andiamo avanti Oh cazzo C'è qualcuno? No Andiamocene via prima che mi secchino Mi seccano male, lo so già Qui, qui non c'è nessuno Andai c'è qualcuno Uh, grandissimi Opla Ecco, cosa? Ma cos'è un veloci raptor? Grande, fatti ammazzare Ma qua quanto è veloce? Ma che cazzo stai guardando tu? Ok Wow, granattu! Eh, uno dalla parte, uno dall'altra Va a cagare Satcom Ok, poi ovviamente in metà parità è già finita Il gioco È un classico Ma non mi ce l'ho scoperto Va a cagare Me l'hai rubato Stronzone Dai, ma che cazzo Sembra dietro Cristo santo E' uno lì su No, non è possibile ragazzi Non è possibile Ma che cazzo è? Ma perché si giochi su Dosatcom 6-5 ragazzi Perfect Woohoo Almeno Almeno faccio l'ultima ragazzi Tranquillo Vediamo l'ultima kill No, ma sulla roccia ragazzi Siamo finiti Vabbè, lasciamo perdere Partiamo subito con la seconda Mappa più divertente Non poteva capitare ragazzi Io uso il bulldo qui È un'arma abbastanza letale È fondamentale anche Perché qui è veramente tosta Andare in serio ovviamente Io mi auguro di andarci Con almeno un elicottero Ma è tosta Dipende anche tutto dagli avversari Uno Cristo santo Eccolo lì fermo Grandissimo Vai, vai, vai Coglione Così impari Non c'è nessuno Oh, tranquillo Mori grande C'è nessuna C'è nessuna? Tranquilli Tranquilli Ole Bam Ok, c'ho il UAV UAV come si chiama Quello che è il SATCOM Ragazzi Proviamo a girare qui Sempre passi silenziati Perché se no vi incassano Vi scoprono sempre Qui c'è qualcuno Guarda te Oh No Strano C'è nessuno E' qui Ma bastardo Guardalo Che merdone Eh, è un merdone Queste persone le fanno cagare Cioè fermi anche col fucile a pompa Non si può vedere Cioè veramente Dai, ma che cazzo Allora, mettiamo l'IMS in questa posizione Questa posizione è veramente tattica Levate dai coglioni Dai, UAV Esatto Come mica si chiama Ole Boom Bam Boom Bim, boom, bam Oh, che cazzo Come andare via, va Cosa? Perché? Perché? Uh Scappa via, scappa via Qua mi seccano E' uscita E' venite E' passata E' passata Bam Grandissimo Uh Bam Cioè la tecnica di metterla lì È veramente fortissima Non c'è uno stranzo qui No Strano Oh, guardalo Che pezzo di merda 12-3 ragazzi Stiamo facendo una strage Uh-uh Uh-uh Non so come Guardalo Che merdone Ok, eccolo lì Bam Grandissimo Uh-uh Ok, non c'è più nessuno Fammi andare via Che sennò qui mi ammazzano Uh-uh È troppo divertente ragazzi Mi fa troppo ridere Questo fucile a pompa fa ridere troppo Ma molto Nessuno che voglia venire Fammi andare via di nuovo Prendiamo il Satcom Ok, c'è uno stranzo lì Ma va a cagare Dai, ma siete immobili Ma che cazzo Ma perché rimanete fermi Cazzo Ma giociamo un po' Perché giocate così da pezzi di merda Ma porca Eva Ma ci vuole molto a giocare seriamente Cioè seriamente Oh Per modo di dire Alla fine Seriamente È un parolone Però cazzo Giochiamo Onestamente Bravo Ma guà È fair Cioè sono immobili Sii coglioni Non è divertente Giocare così Questa gente fa cagare Cioè ok Showtime Showtime è piccolina Bisogna muoversi Divertirsi Ammazzati Mori Va a testa di cazzo Ma che cazzo Ma come fa a rinascermi dietro Va buo raga Va buo Poglione E ovviamente Né un altro dietro Cristo di un dio Ovviamente me lo fotono Grandissimo Ok Ok Lì hanno chiamata Questa cazzo di cosa Che non so Quella sia Opla Ma che Cristo è Che cazzo è La cassa Mi ha spostato Cristo di un dio Porca Eva Cane di merda Va Brucia E loro mi sparano Un colpo Come se mi vedessero Trent'anni prima Gesù Cristo Che cosa fai Di male Per me Oh Mi ammazzano Dietro il muro Ma dai Siete delle merda Cristo di un dio Siete immobili Cazzo fate Giocate da figli Di puttana Oh Le classiche Merda Che giocano Ma muori Coglione Pensa che vogliono Sentirsi sui passi Faccia di merda Che giocatori Dai il cazzo Mi Quanto mi fa incazzare Camperano anche sui showtime Ragazzi Capite anche Il livello Di giocabilità Qui Qua In pre-file Cristo di un dio Grande zio Dietro Fuori Va Con l'M2 Come l'Mt5 Quello che cazzo è Uhhh Va a cagare 25-13 Ragazzi E poi ovviamente Tutti i miei compagni Abbandonano Perché ormai È una moda È una moda Abbandonare Capito Ragazzi Cosa dobbiamo farci Se questa è la mentalità Di Call of Duty Ghost Che ovviamente Perdiamo Con giocatori Che fanno 24-27 O 1-8 Dai ma come cazzo Si fa Ovviamente mi hanno dato I bimbi minchia Per giocare Online Lasciamo perdere Che questo bimbo minchia È dovuto mutarlo Perché altrimenti Facceva un casino Vediamo se si sente ancora Sta ancora parlando Oh Finalmente ha chiuso la bocca No Non ha chiuso la bocca Un cazzo Usciamo dalla partita E lasciamo perdere Per oggi Call of Duty Anzi no Per adesso Magari stasera Mi riscalderò un po' Se mi trovate online Venite pure Giocchiamo pure insieme Non c'è problema Lo sapete E quindi ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Come al solito Vi invito a iscrivervi Commentare Mettere il piace Se ovviamente L'avete apprezzato Noi ci vediamo Alla prossima Quindi Bella raga